La stagione olivicola è ancora lontana ma non è mai abbastanza presto per combattere l'annoso problema che affligge da sempre le nostre piante di olivo e cioè la mosca o le aria. E' per questo che a Loretta Prutino si è organizzato un convegno per saperne di più e soprattutto come applicare le nuove tecniche per combattere questo parassita che mina l'eccellente qualità del nostro olio extravergine di oliva. Dopo l'annata dell'anno scorso che purtroppo ha portato all'attenzione di quella che effettivamente è la pericolosità di questo patogeno, oggi tutti siamo resi conto che è il momento di fare un punto della situazione su come poter di nuovo intervenire. I primi a raccogliere questa esigenza, il primo è stato proprio la regione che da quest'anno grazie all'associazione di agricoltori è ripartita con la lotta guidata e quindi col bollettino. Assolutamente le tecniche innovative ci sono, ci sono delle tecniche convenzionali che gli agricoltori conoscono praticamente benissimo, ci sono nuove tecniche che sono anch'esse molto funzionali che sicuramente aiutano gli agricoltori. Noi quest'anno come servizi regionali daremo sicuramente un supporto tecnico così come ci è stato chiesto espressamente dall'assessore attraverso dei bollettini per aiutare gli agricoltori di tutto Abruzzo e gli olivicoltori a cercare di contenere questa temibile avversità e far sì che non accada più quello che è successo l'anno scorso. È stato davvero tragico.